Il messaggio inaspettato della fidanzata di Ignazio Moser Si infittisce il mistero della crisi tra Belen e Antonino. La Rodriguez e il giovane compagno non si fanno più vedere insieme da tempo e non smentiscono i gossip che stanno gettando parecchie ombre sulla loro storia d'amore. Nelle ultime ore si è parlato di un clima davvero difficile tra i due e qualcuno ha sussurrato pure di un tradimento di Spinalbese ai danni della conduttrice di Tussi Kevales. Tra rumors, indiscrezioni e pettegolezzi è spuntato a sorpresa il messaggio di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha commentato una delle ultime foto che Antonino Spinalbese ha condiviso su Instagram. Uno scatto in cui il 26enne indossa una camicia a quadri nei toni del giallo, marrone e bordo. Ma quella camicia la conosco, ha commentato Cecilia con tanto di emoticon di risate. Spinalbese ha riposto con un cuore. A quanto pare quell'indumento appartiene proprio alla fidanzata di Ignazio Moser, che qualche mese fa l'ha usata per uno shooting in coppia con l'ex ciclista. Dunque, nonostante la crisi con Belen, Antonino sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con la famiglia Rodriguez, con la quale ha subito instaurato un bel legame. Cecilia non si è fatta problemi a commentare il cognato, segno forse che non tutto è perduto tra Belu e il padre della figlia Luna Marie. Non è escluso, infatti, che la crisi rientri a breve. Del resto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si conoscono da poco, appena da un anno, e devono fare i conti con una famiglia allargata. Una situazione atipica e di certo non facile per un ragazzo giovane come Antonino, più piccolo di Belen di ben 10 anni. Belen di ben 10 anni.